La fantasia e musica del violinista uruguaiano Federico Nata nel sogno melodico del chitarrista valenziano eletto migliore artista di strada del mondo, Boscia Catanesi, e ancora l'orchestra sinfonica Sio. Sono solo alcuni degli ospiti annunciati durante la presentazione del Rome International Basket Festival, evento che dal 18 al 20 settembre animerà la passeggiata del porto turistico della capitale, ad Ostia, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Location selezionata per il suo valore sociale, bene sotto sequestro in fase di confisca, attualmente sotto l'amministrazione giudiziaria del Tribunale di Roma. La riqualificazione sociale di un territorio passa anche attraverso l'arte in tutte le sue forme. È una delle tante iniziative con cui abbiamo rilanciato questa enorme struttura che era in storia di abbandono quando abbiamo effettuato il sequestro. L'idea nasce da un grande maestro del cinema, Federico Fellini, che qui in quest'area del porto girò otto e mezzo, quindi con i suoi clown e i suoi artisti di strada. E all'insegna di...